Sono Manuela Colli, insegnante di yoga e ayurveda, titolare dell'Accademia Olistica Spazio Zoema. Mi occupo di discipline posturali e terapeutiche legate allo yoga, fisico e all'ayurveda dal punto di vista della salute in generale, psicofisica. Ho il piacere di informare che da quest'anno è possibile, insieme al maestro Amadio Bianchi, di fama mondiale, inserire la formazione di ayurveda e di yoga. Lo yoga e l'ayurveda sono in realtà un'unica disciplina, perché entrambe si occupano della vita nel senso più naturale. Distinguiamo uno yoga fisico a corpo libero, Ata Yoga, finalizzato al benessere antistress. Nel mio caso mi occupo di terapia posturale in hamaka, proprio per allineare tutti i sistemi energetici collegati al corpo e alla mente. L'ayurveda sostiene il fisico e la mente da un punto di vista di approccio medico naturale, con l'ausilio di erbe, di unguenti e di varie pratiche che favoriscono l'equilibrio quotidiano per una vita in salute. Al contempo è possibile praticare non soltanto corsi amatoriali, ma anche intraprendere il percorso formativo riconosciuto in ambito internazionale dalla Yoga Alliance International e XEN nazionale e appunto la scuola del maestro Amadio Bianchi di fama mondiale che si occuperà di formare a livello ayurvedico. Tutte le discipline che proponiamo, dal yoga corpo libero, yoga per bambini, yoga in hamaka, hanno tutta la finalità di creare uno stato di benessere perché si agisce sul sistema energetico principale, quindi andiamo a scaricare in maniera non invasivo il sistema nervoso procurando una sensazione di armonia, integrando i movimenti al respiro, si ottiene un grandissimo rilassamento e beneficio a 360 gradi. Grazie a tutti.